Salve amici appassionati di Football Manager, qui come vi è sempre c'è Mac94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui in uno Football Manager 2017 per continuare la serie e mostriamo le vostre carriere Oggi andremo a vedere la carriera di Valerio Cattini che ringrazio infinitamente Carriera che non è solo a Firenze ma in altre due città e già vi avviso una carriera veramente molto molto interessante Come sempre non vi faccio vedere il palmarès subito, se no ragazzi vi spoilererei i tre quarti di carriera Ma piano piano col calendario vediamo le sue gesta, anche perché mi sono segnato tutte le sue imprese Quindi piano piano ve le dirò anche io Inizia la carriera da Crotone, il primo anno, squadra molto interessante ma soprattutto molto molto difficile da allenare Inizia infatti un po' Maluccio con l'eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone Sconfitta che ci può stare perché tanto il Crotone si deve concentrare più che altro sul campionato per provare e tentare la salvezza Però come potete ben vedere a parte un inizio buono di campionato dove si pareggia col Pescara ma vince anche Empoli Che è comunque una diretta avversaria, poi c'è una sconfitta col Bologna però come potete ben vedere con le avversarie fa abbastanza bene Purtroppo però ci sono tante sconfitte soprattutto poi nel periodo ostico che va da novembre, dicembre, gennaio Quelli sono i periodi peggiori Purtroppo però poi cosa succede ragazzi che da febbraio in poi la squadra veramente crolla Possiamo anche dire che non lo ascolta più perché arrivano un filotto di sconfitte assurde con Sassuolo, Samp, il pareggio, Lazio, Juve, Milan Che per carità sono tutte squadre comunque molto molto difficili da battere o comunque anche con cui pareggiare non è facile Però insomma arrivano tante tante sconfitte che sicuramente gli faranno perdere un po' la pazienza Infatti poi se ne va si svincola a maggio, il 2 di maggio Se volete sapere sono andato anche a vedere poi la storia del Crotone senza Valerio e diciamo che non è molto positiva Infatti, vabbè, quell'anno va in Serie B anche se poi c'è stata quella vittoria subito dopo Valerio Ma purtroppo non riesce poi a salvarsi e addirittura ritorni in Serie A solamente quest'anno, nell'anno 2022-2023 Vincendo poi appunto il campionato di Serie B Comunque dopo poco, dopo nemmeno un mesetto Valerio per fortuna trova squadra e arriva a Vicenza Squadra comunque molto interessante da allenare e soprattutto è una buona squadra dopo un brutto periodo insomma con il Crotone Vicenza che ovviamente non ha fatto l'anno della vita perché comunque non arriva in Serie A Però se non sbaglio si è classificato ottavo in classifica, arriva anche ai playoff che però perde subito contro la Salernitana Ci sta comunque bene ripartire da una squadra di Serie B e secondo me da un lato non voglio dire più facile Però se tu parti dalla Serie B hai tutto il tempo di plasmare la squadra a tua immagine e somiglianza e a iniziare a creare un progetto poi valido anche per la Serie A Un po' come abbiamo fatto anche che ne so con il nostro Spezia che già abbiamo iniziato a dare dei dettami, a costruire una squadra Più che altro anche col Wigan che abbiamo iniziato dalla Serie C e piano piano abbiamo migliorato sempre più la squadra Abbiamo insegnato la nostra tattica ed è andata per fortuna bene quella carriera E non di meno andrà bene anche questa, già ve l'ho detto, è veramente una carriera molto interessante Infatti quest'anno con il Vicenza si viene buttato fuori da Lecce, sconfitta che non ci sta tanto perché Lecce in teoria è una squadra di Serie C1 Non so, di Lega Pro, no vabbè no, arriva in Serie B, comunque è una neopromossa Però poi fa un campionato veramente molto 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 interessante grazie alla quale riesce ad arrivare secondo e quindi significa Serie A Vicenza è da un bel po' se non sbaglio che non sta in Serie A quindi comunque è una grandissima impresa Anno 2018-2019 c'è da ripetersi o meglio da non ripetere l'anno col Crotone ma ripetere il buon anno fatto l'anno precedente con un ottimo secondo posto in classifica E ovviamente l'imperativo di quest'anno è salvarsi assolutamente Ci stanno mille mila sconfitte perché comunque in Vicenza non ha un budget fenomenale Ha una squadra relativamente buona ma nemmeno chissà che cosa Certo è che il primo anno aveva il mitico Ebagua e solo con lui si poteva vincere tutto Anche se mi pare che diciamo che col primo aggiornamento Ebagua sta ancora alla Provercelli Con l'aggiornamento nuovo sta in prestito per una per sei mesi appunto al Vicenza Quindi vabbè forse manco ce l'avrebbe avuto purtroppo perché sennò con lui sarebbe stato anche Champions Stavo vedendo lo Spezia con cui viene buttato subito fuori E devo dire che in Coppa Italia è abbastanza sfigato almeno questi primi anni Infatti viene subito buttato fuori dal mitico Spezia Comunque ragazzi non la tiro troppo per le lunghe Campionato comunque molto molto interessante perché siamo col Vicenza Perché comunque siamo una neopromossa e si ci sono un boato di sconfitte E un solo pareggio cosa veramente molto molto strana Però ci sono vittorie molto molto importanti col Chievo Col Genova col Trapani comunque tutte concorrenti per la salvezza Col Cagliari col Frosinone che riesce a battere e a vendicarsi Di nuovo Genova quindi comunque vittorie molto molto importanti E infatti grazie a queste soprattutto grazie al filotto finale Che riesce a battere poi anche la sua Fiorentina Riesce ad arrivare sedicesimo e quindi riesce a rimanere in Serie A Quindi veramente complimenti benissimi Anno 2019-2020 possiamo dire che è l'anno della svolta per Valerio Perché a parte che inizia benissimo o meglio Inizia benissimo in Coppa Italia e finalmente riesce a passare il turno Poi ci sono due sconfitte con due squadre che comunque ci sta a perdere Poi altri due sconfitte quindi diciamo che in Coppa Italia inizia bene E poi in campionato un po' maluccio con quattro sconfitte Ma poi veramente fa un filotto di pareggio e vittorie notevolissimo Infatti fino al 9 di novembre perché è importante questa data ora ve lo dirò Riesce a fare bei punti con tante belle vittorie Battendo anche la Fiorentina, Bologna, Sassuolo, Roma Ottima la vittoria veramente non è facile Poi vabbè pareggio col Frosinone che in teoria ci sta più o meno Anche se c'è pure un autogol bastardo costil E poi vittoria col Torino e poi pareggio con l'Atalanta Risultati molto molto importanti Questo perché? Perché arriva la chiamata appunto della Fiorentina Infatti si svincola il 22 novembre del 2019-2020 E arriva appunto poi alla Fiorentina Che comunque non è facile prendere una squadra che sta facendo molto male E con un mercato non tuo, con una squadra non tua Quindi diciamo cambiare passo, ritornare a fare bene O meglio fare bene con una squadra non tua Che sta in un periodo di crisi non è affatto facile E devo dire invece che c'è riuscito veramente alla grande Facendo un vero e proprio miracolo Inizia malino perché perde contro Ludinese Sconfitta che comunque ci sta Se è appena arrivato da due giorni Quindi ci sta a perdere Ma poi si riprende veramente alla grandissima Vince col CSKA Vince col Cagliari, col Copenhagen Batte la Juve Batte il suo Vicenza 3-0 Spero che non abbia esultato Poi il Napoli Poi vabbè ci sono due sconfitte Col Palermo e la Lazio Ma poi veramente un filotto incredibile di vittorie Quindi veramente complimenti Butta fuori la Roma Dalla Coppa Italia Butta fuori la Juventus Dalla Coppa Italia Con gol fuori casa In Coppa UEFA In Europa League Becca lo Spartak Mosca E butta fuori pure lo Spartak Mosca In campionato comunque continua a fare bene Sì con qualche sconfitta Ma che ci sta Poi abbastanza fortunato Becca il Panathinaikos Che riesce a battere senza troppi problemi Con un risultato complessivo di 5-0 Brutta sconfitta col Pescara 4-0 Però ci sta Vabbè sono fissato in Coppa UEFA In Europa League Becca il Feyenburg Che riesce a battere Vincendo 2-0 in casa E 3-3 fuori casa In Serie A Diciamo che c'è qualche sconfitta di troppo Con squadre che Si potevano battere senza troppi problemi Ma diciamo che queste sconfitte Sono più che motivate Perché arriva la semifinale Di Europa League Contro il Borussia Dortmund Che riesce addirittura a battere Con un risultato complessivo di 3-2 Veramente Veramente Complimenti E poi arriva la finale Di Coppa Italia Contro il Napoli Napoli che l'aveva battuto Per ben 3-0 In campionato Ma che poi non riesce a Diciamo Ripetersi Infatti La Fiorentina Di Valerio Vince la finale Di Coppa Italia 4-0 Veramente Veramente Complimenti Poi di nuovo sconfitta col Palermo Che oramai è una sua bestia nera E poi Vittoria per ben 1-0 In finale Di Europa League Contro Stoke City Dove dire la verità Sarà abbastanza fortunato A parte il Borussia Dortmund Ha trovato squadre Abbastanza Facili da battere Però No purtroppo Non possiamo vederlo Avrei voluto vedere La formazione Dello Stoke City In quella partita Perché Voglio vedere Se è lo Stoke City solido Oppure si è Rafforzato tantissimo Comunque Ciò non toglie Che ha fatto Un'impresa Stratosferica Prendendo una Fiorentina Disastrata Portandola Comunque Non è in classifica Però Vincendo l'Europa League Si è aggiudicato Comunque Un posto in Champions League Vincendo la Coppa Italia Comunque si sarebbe Qualificato In Europa League Quindi ragazzi Vuoi o non vuoi Ha fatto un anno Fantastico Il terzo anno Valerio Deve dimostrare Che è bravo Anche in campionato Che non sa arrivare Solamente Nono Sedicesimo In Serie A Ma deve dimostrare Che Può raggiungere Risultati importanti Anche con Lunghi Percorsi Come appunto Può essere Un campionato Perde purtroppo Sia la Supercoppa Italiana Che la Supercoppa Europea Comunque con due squadre Veramente fortissime Come Juve E Barcellona Purtroppo sono risultati Che ci stanno Potevano già arrivare I primi due trofei Che purtroppo Non arrivano Ma per fortuna Arriva la qualificazione In Coppa Italia E diciamo che poi C'è Un inizio di campionato Altanenante Con un 5 a 1 Contro il Bari Poi sconfitta Contro il suo Vicenza Ma vabbè Molto probabilmente Avrà voluto Regalare Tre punti Alla sua vecchia squadra In Champions League Girone Diciamo Medio Becca il Chelsea Che è una squadra Molto forte Però poi La Dinamo Chieva Il Celtic Non sono squadre Facilissime Sono comunque Temibili Ma nemmeno Bestie sacre Quindi diciamo Difficoltà Medio bassa Infatti riesce Senza troppi problemi A superare il girone Battendo anche Il Chelsea Quindi veramente Complimenti In Coppa Italia Viene invece buttato fuori Dal Milan Però poi purtroppo In Champions Viene buttato fuori Dal Bayer Leverkusen Veramente Un peccato Perché secondo me Poteva senza troppi problemi Battere la squadra Tedesca Comunque Coppa Italia Champions League Sono finite Il campionato Finisce abbastanza bene Infatti riesce Ad arrivare Terzo Quindi di nuovo Champions League E quindi Veramente Complimenti Penultimo anno Di nuovo Champions League Becca L'Olympiakos Comunque Champions League Con i preliminari L'Olympiakos Poi becca Nei gironi PSG Stavo dicendo Sampdoria Ma mi sembra Un po' strano Bayer E la squadra Olandese Diciamo Qui il girone Molto molto Più ostico Lo possiamo dire Senza troppi problemi Infatti riesce Ad arrivare Solamente Terzo Però insomma Mica male E infatti Perde col PSG Però poi batte Il Bayer Infatti si vendica Poi perde Però contro la squadra Olandese Riesce a battere Il PSG Però poi perde Col Bayer E quindi finisce Poi insomma Il girone Però riesce Ad arrivare A punto terzo Che significa Europa League Però è molto sfigato Perché becca Il Real Madrid Anche se riesce A batterlo 5 a 1 Quindi insomma Non ha molto senso Perché trova In Europa Il Real Madrid Che però riesce A battere 5 a 1 Quindi veramente Complimenti Con l'Inter Mi sa che esce Dalla Coppa Italia Infatti si In Europa League Becca Becca una squadra Portoghese Nella quale Mi pare Che abbiamo comprato Anche un paio Di giocatori Archivo Non mi ricordo Becca Il Liverpool Poi in semifinalo E quarti Di finale Di Europa League Bella squadra La squadra Veramente Molto molto interessante Che mi piace Sempre affrontare E vabbè Questo perché Io sono milanista E quindi Un po' Lo schifo Il Liverpool Anche se Da un lato Mi fa venire in mente Brutti ricordi Da altri Molto piacevoli Comunque a parte Questo In campionato Comunque continua bene Ci sta qualche sconfitta Ma ovviamente Ci può stare E poi In Europa League Con due pareggi Riesce a buttare fuori Red Bull Lipsia Per differenza Reti Fuori casa E poi in finale Con l'Inter Purtroppo perde Per 2 a 0 Sconfitta che ci può stare Veramente Un peccato Però nulla toglie Che ha fatto un anno Bellissimo Anche questo Arrivando in finale Di Europa League Arrivando secondo In campionato Quindi veramente Complimenti Quest'ultimo anno È fantastico ragazzi Perché comunque È di nuovo Champions Becca il Galatasaray Barcellona E PSG Porca miseria Pure qua Molto molto sfigato Con i gironi Però li riesce a superare Infatti mi pare che batte il PSG Riesce a battere anche Il Galatasaray Il Barcellona Riesce a battere una volta Sì Però addirittura 3 a 1 Complimenti vivissimi Poi becca Che sfiga L'Atletico Madrid Che però Con molta scioltezza Lo riesce a battere Ed infine il Chelsea Che purtroppo Lo butta fuori In Coppa Italia Vabbè Batte il Chievo Va in semifinale Contro il Torino E ve la faccio breve Vince anche quest'anno La Coppa Italia Con l'Inter Con cui si vendica Finalmente Riesce a vincere Con risultato complessivo Di 2 a 0 Quindi veramente Complimenti Il campionato Non ve l'ho detto Ma fa veramente benissimo Infatti vedete Ci sono un sacco di Vittorie Qualche pareggio E solo un paio Di sconfitte Con oramai sempre Il Palermo Che è la sua bestia nera Ma comunque ragazzi L'ultimo anno È l'anno del trionfo Infatti riesce a vincere Lo Scudetto Finalmente E veramente Complimenti Io devo dire la verità È una carriera Molto molto interessante Perché ha iniziato Dal basso Della serie A Col Crotone Poi ha ripreso Con la serie B Del Vicenza E con la Fiorentina È riuscito poi Arrivare A vincere appunto Uno Scudetto Devo dire la verità Manca solamente La Champions League E quindi mi raccomando Valerio Se l'hai vinta Se hai continuato Questa carriera E poi l'hai vinta Faccio sapere Veramente Ripeto Complimenti Per questa bellissima carriera Ma adesso andiamo A vedere il mercato Non sarà facile il mercato Perché mi dovrò spostare Da una squadra all'altra Quindi abbiate pazienza Allora Il primo anno con il Crotone Prende Diakite Miku Dal Raio Vajecano Poi vabbè Gaiardini Jankovic Giocatore che secondo me Deve essere preso Perché per questo Crotone È molto molto interessante L'Abiad pure Buon acquisto Anche se si prende Un bel po' di ingaggio Però è un giocatore Molto interessante Soprattutto per appunto Un Crotone Un paio di prestiti Dalla Roma Gabulov Che è insomma Un ottimo portiere Soprattutto per il Crotone Poi vabbè Di Francesco Ottimo prestito Ba E vari giocatori Fra cui uno Dal Portogallo Io come vi dico sempre Quest'anno è l'anno Del Portogallo Perché Si trovano un sacco Di giocatori Molto molto forti Soprattutto per le squadre Di bassa e media classifica Con Pochi spicci Insomma Che costano veramente Povissimi Poi anche in Goia Questo che praticamente Si fa quasi sempre Perché è un buon Mediano Che si prende Veramente a poco Poi vende Mico Stoyan Anche io l'avrei venduto Stoyan sinceramente Marica Salzano Palladina 300.000 euro Poi vabbè Va di prestiti E questo è Poi andiamo a vedere Anche il Vicenza Ve lo faccio direttamente In live Così senza che stoppo Riprendo la Registrazione Allora Nei trasferimenti Possiamo vedere Il primo anno Appunto Al Vicenza Prende un sacco I giocatori a parametro zero Fra cui Bellomo Dumitru Che non è male Tanti altri Giocatori Giovani E meno giovani Poi prende Texera Che è comunque un buon giocatore Camara dall'Inter Moisekin Giocatore molto molto interessante Che conosciamo Beretta Insomma Vari giovinassi O meno giovinassi Ma comunque giocatori Che gli permettono Appunto poi Di arrivare In serie A Quasi subito Insomma Al primo Al primo colpo Vende Galano A 2 milioni e 4 Comunque buone cessioni Veramente Un mercato secondo me Fatto molto molto bene Perché comunque Guadagna tanto E spende nulla Il primo anno In serie A Sempre con Vicenza L'anno del Sedicesimo posto Compra Cragno A zero Mamma mia che acquisto Per il Vicenza Spinazzola Anche questo Ottimo acquisto Anche se fosse Nell'aggiornamento scorso Era un po' meno valido Ma comunque Nulla toglie Che ha fatto Veramente Ottimi acquisti Compra veramente Giocatori molto molto Buoni Grazie alla quale Comunque riesce Poi appunto Ad confermarsi In serie A Poi per quanto Concerne invece Le gestioni Anche qui Buone gestioni Riesce appunto A fare ben 8 milioni E 250 milioni Riesce comunque A spenderne solamente 5 milioni E quindi Veramente Complimenti Per quanto invece Concerne il mercato Del 2019 2020 Dobbiamo vedere Il mercato Di luglio A Vicenza Il mercato Di gennaio Invece A Firenze Compra Oliva Mbacoco Ottimo acquisto Luigi Sepe Che secondo me Come riserva Ci può stare Sousa Anche lui Sempre dal Portogallo Come anche Empis Poi Chapman Ne compra Un sacco A parametro zero Comunque Come potete ben vedere Fa mercato Subito E secondo me La cosa migliore Perché se no Poi I vari giocatori Migliori Se li fregano subito Anche Barba Ottimo acquisto Nuno Santos Che devo dire la verità Quest'anno È un po' meno forte Rispetto agli anni precedenti Poi compra Anche Bressan Dal Gremio Quindi veramente Acquisti molto Molto Interessanti Per quanto invece Riguarda le gestioni Ci fa anche qui Bei soldi Anche se alcuni giocatori Li cede Fra virgolette Il computer Si fa Vende Peron Vende Guns Insomma Ci fa bei soldi Infatti ne riesce a guadagnare 13 di milioni Anche se ne spende 16 Anche se non li ha spesi tutti lui Perché il resto Li ha fatti Il computer Un'altra chicca Prima di andare a vedere Il mercato Della Fiorentina L'ho visto Per mia curiosità Ma guardate lo staff Cioè ma che Che grande Che è stato Valerio Cioè ha fatto Uno staff Assurdo Io non Mi pare che non ha mai Fatto una cosa del genere E questo Da questo possiamo vedere La cura dei dettagli Di Valerio E per questo veramente Complimenti Cioè guardate qua Che cacchio Staff Migliore in serie A In tutti i reparti Cioè cosa molto molto Difficile E per la quale Io gli faccio I miei più sentiti Complimenti Perché ripeto Io non ho mai fatto Una cosa del genere Quindi ripeto Cura Dei dettagli Januzzaia Toledo Toledo Anche se non l'ha venduto Lui Tomovic Insomma fa Un bel po' Di gestioni 2020-2021 Anche qui Vabbè Compro un sacco Di giocatori Stamburia Anche lui Giocatore molto interessante Insomma Biraghi Interessante Voglio dire com'è Vabbè Non è un malaccio Insomma Come riserva Ci può stare Valziana Reale Maia Mancini Taddei Vabbè Sicuramente ci saranno Molti Regen Molti giocatori Comunque Prima giovani Adesso un po' Più forti Ricompa Bernardeschi Dal Barcellona Solamente 20 milioni Che figate Poi Tini Edvai A 37 milioni Giocatore veramente Assurdo Che a me piace tantissimo Uno dei miei più grandi Rimpianti Perché Stava per venire Al Wigan Ma poi purtroppo Non siamo riusciti A prenderlo Vende Dembélé Ritorna Al Borussia Per ben 40 milioni Poi vabbè Coco Dickman Se non sbaglio È un buon giocatore Sì un terzino destro Che Infatti Del Novara Buona gestione Anche se è un giocatore Molto molto interessante Sì L'abbiamo trattato Nei Wonder Kids Poi vabbè Altre gestioni Fra cui anche Pasalic Poi Astori Che sicuramente avrà La sua età Nel 2020 Quindi buona gestione Anche qui Comunque tanti giovani Tanti Regen Van Bic Anche lui Un giovane interessante Digni A 10 milioni Molto molto buono Scuffette A solamente 160 mila euro Mamma mia Buon acquisto Secondo me Scuffette È un po' meno forte Rispetto all'anno scorso Ma secondo me Come riserva Ci può stare tutto Bentivegna A 0 Giocatore Giocatore Insomma Comunque Ottimo Ottimo acquisti Ha speso un bel po' Ma anche Ha guadagnato un bel po' Infatti ha fatto 130 milioni di utili Vendendo Yanuzai Maffeun Sahin Ragneri Bakambu Insomma Ha fatto un bel po' Di gestione Stambulì Che l'aveva presa a 0 Politano Mattias Vesino Insomma Belle gestioni Perisic Me l'avevo perso Perisic Ma forse non l'ha acquistato lui Non lo so Me l'ho perso Quando l'ha comprato Nel 2020 2021 a 0 Allora quest'anno No L'anno scorso Me l'ho perso Perisic Ecco infatti Beh A 0 È un ottimo acquisto Poi l'ultimo anno E poi andiamo a vedere La tattica E ci salutiamo Perché sicuramente È diventato Un video Abnorme Prende surare 2 milioni Ci sta Stojanovic Insomma Un bel po' Di acquisti Spende molto meno Ma perché comunque La squadra Già era bella Che fo' Bella forte Guadagna 56 milioni Vendendo un bel po' Di giocatori Addirittura India Solamente 2 milioni e 4 Che brutta fine Che ha fatto Detto questo Ragazzi Andiamo a vedere la tattica Che sto perdendo la voce Perché è una carriera Molto lunga C'è tanto da dire Perché comunque Parare di tre squadre Non è facile Ma comunque È stata una carriera Bellissima Che io mi sono goduto Sia prima Studiandomela Fra virgolette Sia adesso Descrivendola Infatti un po' Mi sono perso Ma perché c'erano Tante cose da dire E più la vedo Più rimango affascinato Sia per la cura Dei dettagli Infatti addirittura Come potete ben vedere Ci sono ben tre tattiche Un 4-1-2-3 Un 4-2-4 Anche se non ci sono Le istruzioni Gioca con Dragoschi Digni Edwai Mancini Cancelo Koenkao Di ht Bernadeschi Piper Nyang E Boselli Che secondo me È un regen Infatti però Porca miseria Che attaccante Vi lascio con le istruzioni Della tattica Perché secondo me È molto molto buona Più che altro Perché se ha vinto Tutto quello che ha vinto Significa che comunque È una tattica buona Da utilizzare Anche se io non uso Il 4-2-3-1 Però diciamo Che è un 4-2-3-1 Difensivo Quindi secondo me Ha un senso Detto questo ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre lasciate un like Commentate a manetta Valerio se hai continuato Questa carriera Mi raccomando Scrivi nei commenti Cosa hai fatto Di nuovo complimenti Vivissimi E grazie mille Per avermi appunto Mandato questa carriera Come sempre ragazzi Condividete a manetta il video E come sempre Un saluto da Michael94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi E grazie per tutto Ciao ciao